Ciao a tutti, oggi mi trovo in un posteggio di un centro commerciale e voglio farvi vedere una cosa davvero mitica, ossia questi armadietti qua. Adesso, io non so se ci sono anche in Italia, però quando ce l'ho io e dove ce l'ho io, personalmente non li ho mai visti. E a che cosa servono? Allora, vi sarà capitato senza dubbio, almeno una volta, magari quando siete pendolari o comunque siete fuori, di avere qualcosa di troppo. Per esempio, magari siete in un periodo di metà stagione e di mattina faceva freddo, ma di pomeriggio ve li trovate con una giacca che dovete sempre portarvi dietro in mano. Oppure, magari se siete ragazze, magari avete delle scarpe di riserva che, appunto, anche quelle dovete portarvele dietro. O magari avete appena fatto shopping, avete qualcosa, insomma, avete qualcosa da riporre da qualche parte e dovete sempre portarvela dietro. Ebbene, qua invece no. Come vedete qui ci sono degli armadietti. Allora, come funzionano? Allora, in pratica si deve premere questo tasto, ok, vi esce una ricevuta e si apre un armadietto, vedete, no? Ecco. Sulla ricevuta c'è scritto il numero della colonna e poi il numero del cassetto. Adesso ci metto dentro questo zaino, ci metto dentro questo zaino che mi è di troppo. Aspettate. Allora, vi faccio vedere, no? Metto dentro lo zaino e, ok, che bello grosso tra l'altro, e ci sta tutto. Ok, e poi chiudo. Ok, chiudo. E poi, una cosa importante è conservare questa, ok? Adesso ci vediamo qui dopo per la conclusione di questo video e dopo vi dirò anche quanto costa. Ciao a tutti, sono tornato dai nostri CoinLocker, ok? Mi ero dimenticato il nome nella prima metà del video. E appunto, adesso vediamo sul nostro cartellino. C'è scritto nonna colonna, quindi questa, e sedicesimo cassetto. In pratica questo codice a barre si mette qui così. Ok, lui te lo legge. No, ok. Ecco qua. Poi questo si apre automaticamente, tu puoi prendere il tuo zaino, ok, ecco qua. Adesso me lo metto sulla spalla e poi si richiude il cassetto. Indovinate un po'? È gratis. È gratuito. Quindi voi, gratuitamente, potete depositare i vostri averi in un CoinLocker. E, tra l'altro, vorrei puntualizzare questo, che è molto sicuro, ok? Perché qui in Cina raramente succede che della gente compia atti di vandalismo e ruba le cose del CoinLocker. Perché comunque ci sono videocamere, ve le faccio vedere. E poi a volte ci sono anche addirittura i guardiani. Infatti là stavano anche guardando che io stavo facendo dei video. Ok. E, vabbè. Qui, tra l'altro, il CoinLocker l'hanno messo... Ah, giusto. Dove li potete trovare? Allora, io non so se sia così per tutta la Cina. Io vi parlo di Zinan. Li potete trovare soprattutto, soprattutto, in prossimità dei centri commerciali, dei supermercati. Perché normalmente la gente, per poter fare la spesa in modo comodo, deposita prima le altre borse, no? Anche perché poi non è tanto bello da vedere che tutti si è portato dietro altre borse quando va al supermercato. E quindi li trovate principalmente lì. E sono molto comodi se magari siete dei turisti o se comunque avete delle cose in giro, no? Per esempio avete fatto shopping, avete delle scatte, avete delle valigie, avete una giacca, uno zaino... Potete depositare tutto in maniera molto comoda e gratuita. Ecco, niente. Vabbè, comunque adesso da questo posteggio del centro commerciale la chiudo qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete like al video. E se vi interessa seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!